E' contro i morti innocenti, generati dalle scelte di governi che insomma possono accadere quello che possono accadere. Novecento! E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembra il peggio dei maniari, si perpetrava lo sfruttamento, pensate nel contadini, dalla schiena stronca e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembra il peggio dei maniari, si perpetrava lo sfruttamento, pensate nel contadini, dalla schiena stronca e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembra il peggio dei maniari, si perpetrava lo sfruttamento, pensate nel contadini, dalla schiena stronca e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembra il peggio dei maniari, si perpetrava lo sfruttamento, pensate nel contadini, dalla schiena stronca e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, si perpetrava lo sfruttamento, pensate nel contadini, dalla schiena stronca e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembrava lo sfruttamento e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembrava lo sfruttamento, pensate nel contadini, dalla schiena stronca e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembrava lo sfruttamento, pensate nel contadini, dalla schiena stronca e dai sopprusi padronali. E' contro i morti innocenti e uguali, sempre questo sembrava lo sfruttamento e dai sopprusi padronali.